Qualche specialità? Allora, qualche specialità? Noi abbiamo una tartare dello chef Lo chef appunto Ivan Silva, brasiliano Diciamo ha creato questa salsa dove lui ha vinto un premio Dopo 16 anni esatto, per questa salsa particolare I cui appunto ingredienti rimangono segreti E la tartare Livingstone, la tartare dello chef Rispecchia in pieno questa sua creazione Poi abbiamo del sushi tradizionale Assolutamente, abbiamo del sushi tradizionale Unito con frutti esotici Provo appunto a rispecchiare il Brasile Quindi maracuia, il mango, papaya Una varietà di guida